Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos. Torniamo questa sera a parlare di energie rinnovabili, un argomento di cui ci siamo occupati da poco, incontrando proprio la ricerca. Questa sera ce ne occuperemo da un altro punto di vista. Dicevamo l'Italia fin dalla fine degli anni Ottanta è sempre stata al passo in questo settore, è stata pioniere proprio per quanto riguarda lo sviluppo, la ricerca e la tecnologia. In questo settore ultimamente ci sono stati massicci interventi a sostegno proprio di strumenti economici che hanno permesso ad alcune aziende di diventare leadership nel settore, soprattutto per quanto riguarda l'ambito fotovoltaico e eolico. Quindi l'Italia è tornata a trattare nel modo migliore le sue risorse naturali, che sono il vento, il sole e l'acqua, ma questa sera cercheremo di capire quali sono i problemi principali che il mondo della produzione si trova a dover affrontare proprio per cercare di diminuire al massimo la differenza che può esserci con i paesi più sviluppati in questo senso. Le energie da fonti rinnovabili sono sicuramente uno degli aspetti più importanti che il nostro paese deve cercare di affrontare per ridurre la differenza esistente ancora oggi da produzione di energia per quanto riguarda i prodotti del petrolio. Naturalmente l'innovazione tecnica deve fare in modo che questa produzione sia sempre più efficiente, quindi pannelli fotovoltaici più attuali, e poi ci sono delle novità molto importanti che riguardano per esempio il mini eolico e le produzioni di centrali da biomasse. Allora, Ingegner Pegni, vogliamo iniziare ad affrontare l'argomento individuando, cercando di fare un quadro su quelle che sono le fonti di energia rinnovabili presenti in Italia. Certo, la fonte principale è quella idroelettrica, rimane la fonte prevalente per potenza installata e energia prodotta, l'energia prodotta utilizzando l'acqua e utilizzandola da molti secoli ormai. Poi abbiamo le cosiddette nuove energie rinnovabili, l'idroelettrico si è diffuso molto, ora si sta diffondendo l'eolico, quindi come seconda fonte c'è l'eolico, poi ci sono le bioenergie che comunque coprono una buona parte della produzione rinnovabile del paese e recentemente si sono affermati anche la generazione da fotovoltaico, l'energia utilizzando direttamente la luce solare per produrre kilowattore elettrici da consumare in rete. Quindi sono tutte presenti, diciamo. In Italia sono tutte presenti, c'è anche la geotermia, cioè utilizzare il calore della terra per poi mandare questo calore in turbina e produrre elettricità attraverso il normale centrale termoelettrica. Anche questa è una tecnologia molto conosciuta in Italia. Due, tre, via! Oggi è un momento positivo per l'ambiente della provincia di Torino perché siamo venuti a inaugurare questo impianto fotovoltaico di Asia che ha una serie di caratteristiche che non possono che fare la gioia dell'assessore all'ambiente. Intanto stiamo parlando di energie pulite in quantità industriali, parliamo di energie pulite prodotte senza andare a deturpare il nostro ambiente, senza consumare terreno che deve servire all'agricoltura. Stiamo parlando di un'impresa che accompagna molte iniziative sul nostro territorio che quindi, oltre che svolgere legittimamente il suo compito imprenditoriale, gioca anche un ruolo nel panorama culturale ambientale torinese e quindi benvenga iniziative di questo genere. Sono molto contento dell'inaugurazione di questo impianto perché, come ha introdotto Alessandro Casale, va nella direzione non di togliere, ma di utilizzare terra nobile per mettere pannelli di silicio, ma va proprio nell'idea di utilizzare i tetti, di utilizzare aree compromesse e che quindi gli si dà invece una nobile attività. Le energie rinnovabili non sarebbero decollate senza un intervento di sostegno delle istituzioni a partire proprio dai fondi risorse messe a disposizione dal governo a favore del fotovoltaico, delle energie quali il miniolico, l'eolico, le biomasse. Quindi il sostegno da parte della finanza è anche importante e fondamentale. Questo ha consentito, per esempio, in una regione come il Piemonte, che si caratterizza, come diceva Marco Pigni, per una presenza importante dell'energia idroelettrica, il terzo posto, credo, a livello nazionale. Anche altre energie sono partite molto bene in una regione che sicuramente, dal punto di vista della biomassa, rappresenta una posizione molto importante. Il fotovoltaico è, credo, sia la quinta regione a livello di installazioni nel fotovoltaico, addirittura davanti a regioni del sud Italia. Un produttore, una persona, un produttore che fa un impianto da fonte rinnovabile può autoconsumarsi questa energia, possiede farsi un impianto per i suoi fabbisogni. Ad esempio il miniolico è una tecnologia che si presta molto bene a questa possibilità, come anche il fotovoltaico. Oppure, se viene prodotta energia a livello industriale, può essere venduta al gestor di rete, che è obbligato a ritirare l'energia prodotta e che riconosce anche l'incentivo. Oppure si può vendere a grossisti che acquistano questa energia e la vendono poi direttamente a dei clienti doni. Oggi si può acquistare l'energia prodotta da fonte rinnovabile, molti grossisti vendono questa energia a 100% fonte rinnovabile. L'Aper è un'associazione che riunisce e rappresenta tutti i produttori di energie e di fonti rinnovabili, ne tutela gli interessi, i diritti, questo rispetto a un ambito internazionale e nazionale. Quindi mi sembra che voi rappresentate 480 associati, 1.150 impianti, mi corregga dove sbaglio, ma in qualche modo rappresentate un punto di riferimento importante nel settore fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergetico. Quindi questo vuol dire, credo, anche garantire assistenza a tutti i vostri associati, vuol dire dargli aggiornamento e occuparsi anche della parte che riguarda l'informazione, che è molto importante, e la formazione di tutto il personale addetto. Questo anche attraverso il lavoro di un centro ricerca e studi molto avanzato. In tutto questo, dicevo Ingegner Pigni, è molto importante ovviamente la comunicazione verso i cittadini. Stiamo parlando di un ambito che sta andando avanti, che è molto importante, ma nei confronti del quale forse dobbiamo ancora cambiare mentalità, è così? Beh, certamente. Oggettivamente si sente parlare di energie rinnovabili, ma resta tutto in superficie. Si confondono molto i temi, si confonde il fotovoltaico, il solare termico. A volte si assiste passivamente ad attacchi durissimi da parte di soggetti che sui media continuano a dipingerle come le energie degli ideologi, le energie degli ambientalisti, che sono inutili e costose, delle chimere, delle non soluzioni, al problema energetico nazionale, internazionale, che invece bisognerà risolvere come e non si dice mai come. L'eolico nasce proprio su queste basi, nasce da una serie di iniziative nel settore del mondo agricolo, aziende agricole che hanno impiantato dei piccoli strumenti per produrre energia, appunto le torri mini-eoliche, per integrare il loro reddito agricolo. Questo ha consentito di non abbandonare le terre del sud, dove effettivamente c'è la tentazione anche per la scarsa redditività di queste iniziative. Quindi il mini-eolico è diventato un sostegno al mondo dell'agricoltura. Parte da qui questa associazione che poi si è allargata negli ultimi mesi ai produttori di macchine mini-eoliche. Io ho scoperto, proprio avendo già investito direttamente in questo settore, che ci sono un sacco di aziende che producono macchinari tutti italiani nel settore del mini-eolico. Vediamo invece l'altro progetto di cui mi diceva, lo abbiamo per il momento chiamato Piera, Piera sta per Polo Integrato, Energie Rinnovabili e Ambiente, il comune di Buttigliera Alta, che tra l'altro si è distinto, è stata fatta una trasmissione di Striscia la Notizia recentemente, che lo ha preso come esempio virtuoso di un piccolo comune che ha adottato tutta una serie di iniziative nel settore del risparmio energetico e soprattutto a livello di parte termica, risparmio termico e illuminazione, quindi sistemi innovativi sull'illuminazione. Abbiamo messo, e vorremmo mettere, questa è un'iniziativa in itinere, in una struttura non finita, ex bocciofila del comune, un concentrato, io lo chiamo distillato, di tutto ciò che si potrebbe fare in termini di risparmio energetico, cioè rivestire questa struttura con le tecniche più avanzate di bioedilizia e quindi mettendoci del solare termico, delle pompe di calore, tutto quello che si può pensare in termini di isolamento termico, acustico, illuminazione a led, e quant'altro, farlo diventare un centro di formazione del CNA, che rappresenta l'organizzazione degli artigiani di Torino, quindi un centro dimostrativo e formativo di queste cose e sul parco di 8 mila metri quadri metterci, quindi il terreno antistante, mettere un esempio per ogni tipo di tecnologia da fonte rinnovabile. Voi avete realizzato una campagna, eccola qua, abbiamo sei vignette che ce la rappresentano, ed è una campagna pubblicitaria, devo dire molto efficace, in cui avete collaborato con questo famoso vignettista per poter spiegare le energie rinnovabili. Vogliamo vederle? Sì, per esempio questa prima vignetta esemplifica il fatto che il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili non è una cosa che costa un'enormità, è un costo sostenibile rispetto ai benefici e equivale per una famiglia italiana media al prezzo di un gelato al mese, circa 3 euro per ogni mese di contributo. Dalla misura di quello, ecco ne stiamo vedendo altre, io ho scommesso sulle rinnovabili, lo sapevi che gli italiani spendono per le rinnovabili solo un ventesimo di quanto giocano in scommesse. Sì, si esemplifica da solo, e non solo, solo un novantesimo di quanto gli italiani spendono solo nel bingo. Cioè è impressionante comprendere come questi investimenti, l'attenzione che si dedica, questi investimenti, queste spese utili, spesso sono molto inferiori rispetto a moltissime altre voci che nella famiglia, e non solo nelle famiglie benestanti o diciamo di imprenditori o nobili, eccetera, ma per qualsiasi si dedicano invece ad altre attività, tra cui anche il gioco. Quindi energie da fonti rinnovabili. Abbiamo visto nella puntata di oggi di Antropos come sia possibile ridurre il gap dalle fonti fossili rispetto alle fonti rinnovabili. Un investimento fondamentale per i nostri figli, per i nostri nipoti, per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nel quale noi viviamo, e abbiamo anche imparato a vedere quali sono le fonti dalle quali si possono produrre energie appunto rinnovabili. Abbiamo visto che esiste un nuovo tipo di eolico, il microeolico che serve appunto per ridurre anche l'impatto ambientale che queste enormi colonne hanno sull'ambiente, ma anche in questa panoramica generale che abbiamo visto del nostro paese, da nord a sud, abbiamo visto anche come sia possibile ridurre proprio l'impatto di questi grandi impianti rispetto all'ambiente, alle città, anche a luoghi storici, importanti e molto belli da un punto di vista paesaggistico. Quindi noi stiamo già pagando, come sapete, nella nostra bolletta la produzione, proprio gli investimenti da fonti rinnovabili, abbiamo visto che però il nostro paese sta recuperando molto lo svantaggio rispetto ad altri paesi più avanti di noi, come la Germania, come i paesi scandinavi, e quindi naturalmente questo può dare una grande opportunità di lavoro, una grande opportunità di lavoro. Ricordo la mail della nostra trasmissione che è antroposchiocciola, quartarete.tv e il sito nel quale potrete seguire in streaming la nostra puntata e tutta la produzione di Quarta Rete che è www.quartarete.tv